Testa a coda al Vincenzo Cicalè di fronte la squadra di casa del Pidiense Cacinare ed il Matelica. Ha vinto largamente la capolista ma il team di Mr. Calcavrini deve recitare, arbitro a parte, il suo mea colpa soprattutto per il modo come ha subito le due reti nella ripresa. Battute iniziali che vedono la squadra di casa subito avanti. Al decimo scatta il giallo nei confronti di Scarpetti, non del tutto condiviso. Calcio di punizione conseguente affidato a Cantarini, la difesa di casa ribatte. Al quarto d'ora a fondo dalla sinistra da parte di Tramannoni, palla dentro, Severini spedisce la stessa sul fondo. Il conseguente calcio d'angolo non regala nulla. Ventesimo, Api giù sulla corsia di destra, qualche metro dalla linea di fondo. Calcia Severini con l'interno destro, tiro imparabile, vantaggio Matelica è l'1-0. Difesa di casa non esente da colpe. Trentaduesimo, il portiere Morlacco anticipa Api e l'opportunità per il Matelica di raddoppiare sfuma. Trentasesimo, Lazzoni va sul fondo nella corsia di sinistra. Retropassaggio, Severini impatta la sfera che viene toccata con un braccio da un giocatore della squadra di casa. Mozzoni, rigore, Capi trasforma 2-0. Diluvio di fischi nei confronti del direttore di gara per una decisione apparsa assurda. Sergio Cartabrini. È iniziata anche abbastanza bene come comportamento iniziale. Poi ci sono stati questi episodi, un calcio di punizione e soprattutto il calcio di rigore che ha completato un po' il quadro. Noi incontravamo una squadra importante, non lo scopro sicuramente io, una squadra prima della classe. Però penso che non abbia bisogno di questi favoritismi arbitrali. Io forse mi sto un po' ripetendo, ma vedere una squadra che lotta in questo modo e poi viene un attimino condizionata da questi episodi mi lascia un po' la mano in bocca, soprattutto per i ragazzi e per la società. 44esimo calcio di punizione a disposizione per la squadra di casa, calcia Amadio, Spitoni gli nega il gol. Calcio di rigore concesso 45esimo per un fallo di mano di Cacciatore che si becca anche un giallo. Amadio dagli 11 metri non sbaglia. Si riaprono i giochi, squadre che in avvio di ripresa ripartono senza modificare gli assetti tattici. Resto in 10 le spedienze dal quinto del secondo tempo, rosso diretto per Precalente. Al decimo punizione dalla destra, calcia Amadio, pallone ribattuto ancora una volta dalla difesa ospite. Al dodicesimo esce Staffolani per far posto a Colella. Diciottesimo calcio di punizione affidato ad Amadio dalla lunga distanza, ma non ha successo. Ventunesimo ruba palla a Cacciatore che si fa una bella volata in seguito dai difensori locali. Si presenta in area pronto per infilare Morlacco alla sua sinistra. Il tecnico matericesi richiama in panca Api, il bomber non finisce la partita e ci scherza anche sopra. L'anno 2013 è iniziato nel migliore dei modi personalmente, ma soprattutto a livello di squadra. Era una partita importantissima su un campo molto difficile, quindi ci tenevamo particolarmente a far bene. Sono arrivati tre punti, meglio non poteva andare, andiamo avanti così. Un campionato che è durissimo, ogni partita ha una storia. Sì, lo sappiamo, abbiamo un vantaggio da gestire, ma sappiamo che ogni domenica troveremo all'altra parte una squadra che dovrà fare i punti. Quindi tutte le partite iniziano 0-0 e bisogna fare tanto, tantissimo per sbloccare il risultato e poi gestire la partita. Sappiamo che sarà ogni partita dura e quindi ci dovremo impegnare al massimo. Ancora una volta non hai concluso la partita, ma Spurio Forotti ce l'ha con te? Sì, mi riserva, ormai il risultato era al sicuro e quindi mi fa riposare un po'. 26esimo calcio di punizione dalla sinistra all'altezza del vertice dell'area di rigore. Cacciatori impegna severamente Spitoni. 27esimo si ripete Cacciatori, para in presa alta il numero uno del materica Spitoni. 28esimo Cacciatore impegna invece severamente Morlacco. 34esimo gol di Trudo appena entrato. La partita in pratica è finita, ma al 40esimo Amadio su punizione piega le mani di Spitoni e accorcia le distanze. Va giù in area lo stesso Amadio al 45esimo, ma l'arbitro non interviene. Proteste da parte della squadra di casa. Nicola Spurio Forotti, tecnico del materica. La prima partita è sempre la più difficile, quando stai un po' a riposo contava il risultato, poi tra l'altro conta sempre, per cui siamo ripartiti su un campo molto difficile, una squadra molto agguerita, lo sapevamo, però siamo stati tranquilli in campo e poi siamo riusciti a passare in vantaggio e è andata abbastanza bene.